Grazie a tutti. I denti sono fondamentali, soprattutto quando ne perdiamo uno. Non è soltanto per la bellezza del nostro sorriso, ma in realtà può nascondere qualche malattia ben più grave. Allora, professore, perché cadono i denti? Nella stragrande maggioranza dei casi i denti vengono persi per la parodontite, che è un'infezione di cui abbiamo già parlato altre volte e che distrugge in seguito all'infiammazione che produce nei tessuti di sostegno e di supporto del dente la perdita dell'osso e dell'attacco di collegamento tra la radice e l'osso. Quindi, nelle estreme conseguenze, porta alla perdita del dente. In casi più rari il dente viene perso per la carie, ma spesso la carie è una delle conseguenze denfaste della parodontite. Gli eventi traumatici che possono portare alla perdita dei denti sono percentualmente rarissimi. Quindi la parodontite è la prima causa, la più importante causa di perdita dei denti. Allora, professore, quando si perde un dente deve essere sempre sostituito oppure è fondamentale sostituirlo con un impianto? Poi il professore ci dirà che ha sviluppato questa nuova tecnica per impiantare un dente meno invasiva e con meno dolore sicuramente. Il nostro consiglio è di sostituire sempre un elemento perso quanto più velocemente possibile. Perché, ne spiego cosa succede, nel momento in cui si perde un elemento, l'elemento antagonista, per esempio quello che sta sotto o quelli che stanno vicino a questo dente, non rimangono in quella posizione, ma lentamente, molto lentamente, nel tempo tendono a cambiare posizione. Per esempio, qui in questo caso è stato perso un dente dell'accata superiore, l'ultimo, della parte sinistra di questa accata superiore, vedete che il dente inferiore antagonista si è spostato, si è estruso, diciamo noi, quindi ha iniziato piano piano ad occupare lo spazio anatomico che prima era di pertinenza del dente antagonista. Questo provoca uno scombussolamento nella meccanica, nella dinamica di funzionamento della bocca che a lungo termine porta tutta una serie di conseguenze molto importanti per il mantenimento degli altri denti in funzione. Quando poi non è uno, ma sono più denti, qui in questo caso il paziente ha perso due denti, man mano che si va avanti con la perdita degli elementi, l'apparato perde di efficacia masticatoria. Per cui vanno rimpiantati, sostituiti questi denti mancanti. Allora, quanti tipi di impianti esistono, professore? Fondamentalmente oggi noi consideriamo che c'è un solo tipo di impianto, un impianto che si chiama osteointegrato, l'impianto è una vite di titanio. Ecco, la siamo vedendo in questo momento. È una vite di titanio che è stata sviluppata come implantologia moderna, come concetto moderno di implantologia più o meno 50 anni fa. Noi abbiamo iniziato a utilizzare queste viti con questa caratteristica, con questo disegno più o meno verso la fine degli anni 70 e quindi questo ha portato l'odontoiatria a uscire dall'epoca pionieristica. Prima si infilava nelle ossa di tutto. Qualche volta andava bene, qualche volta andava male. L'uso di questi impianti, che sono impianti di titanio e osteointegrati, sviluppati concettualmente in Svezia ma poi clonati un po' dappertutto, nel mondo ha fatto uscire l'implantologia da quest'epoca pionieristica portando la percentuale di successo dell'implantologia vicina al 90% e a volte anche al 95%. Tutti i pazienti possono ovviamente sottoporsi ad un impianto, professore, oppure c'è qualche paziente, ci sono magari delle persone che non possono? Tutti i pazienti possono sottoporsi all'intervento di implantologia, ma ci sono una serie di precauzioni da aver ben chiare prima di iniziare quest'iter. La prima precauzione è quella di curare radicalmente eliminando l'infezione dalla bocca, la parodontite. La parodontite è un'infezione che non si elimina, qui vediamo una mandibola ed entola, il fatto che non ci siano più denti in bocca non vuol dire che non ci possano essere nei tessuti i batteri della parodontite. Quindi questo concetto erroneamente viene ancora oggi portato avanti e spesso ci troviamo anche in situazioni di mandibola ed entola a sviluppare attorno agli impianti che vedete vengono posizionati dopo aver fatto un piccolo forellino nell'osso avvitandoli. Quindi se non si tolgono i batteri della parodontite facilmente sviluppiamo la perimplantite. Ecco, professore, io so che lei appunto ha sviluppato questa nuova tecnica, però tante volte le persone anziane, soprattutto da una certa età, preferiscono la famosa dentiera, no? Perché hanno, quali sono i vantaggi e i costi anche? Perché poi parliamo anche di costi perché il Servizio Sanitario Nazionale purtroppo da questo punto di vista, soprattutto con i denti, non ci passa quasi nulla. Vi spiego, non sono due cose alternative. L'impianto è la protesi endossia, quindi la vite che noi posizioniamo all'interno dell'osso. Poi noi dobbiamo applicare sull'impianto una protesi. Anche la stessa dentiera, la protesi mobile, che magari l'anziano ha portato in bocca per tanti anni, può essere collegata a degli impianti inseriti sul mandibolo, sul macellare ed entolo in maniera abbastanza semplice. Quindi con un vantaggio enorme, io personalmente ho esperienze in famiglia, per cui ai miei zii ho messo 30 anni fa gli impianti, collegando la vecchia protesi agli impianti, questa protesi ancora oggi, dopo 30 anni, funziona. Allora, il professor adesso vi spiegherà tutti i vantaggi, anche i costi. Restate con noi. Arriverà anche il professor Vesito, parleremo di olio di oliva, ma anche di olio di palma. Fa bene, fa male. Restate con noi. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria e torniamo subito. Restate lì. Allora, bentornati in diretta. Stiamo parlando con il professor Martelli di denti, della perdita dei denti e come possiamo sostituirli con questa nuova tecnica di implantologia, impiantare un nuovo dente. Allora, professore, di che cosa si tratta? Si tratta di capire intanto se parliamo di implantologia che supporta protesi fissa, quindi denti che il paziente non è in grado di rimuovere staccandoli dagli impianti, oppure di implantologia che supporta una protesi mobile. La dentiera. La dentiera, per esempio. L'intervento, per esempio, nelle persone anziane è oggi non solo indicato, ma almeno per quello che il mio pensiero è fortemente consigliato, grazie anche a queste tecniche minimamente invasive, per cui noi non sottoponiamo più le persone anziane, ma in assoluto lo facciamo con tutti in questo modo, a un intervento molto pesante che di solito consiste nell'incisione della gengiva su una buona parte dell'arcata, il distacco della gengiva, il distacco dei muscoli per inserire questi impianti. Oggi, grazie all'uso del microscopio, se noi dobbiamo inserire un impianto di meno di 4 mm di diametro, possiamo fare un piccolissimo percolo di 3 mm, inserire la vite e mandare via il paziente, dopo pochi minuti, perché due impianti ci vuole 10 minuti per inserirli, senza nemmeno dei punti di sottura. Questo ci consente di evitare la somministrazione di antidolorifici, minimizzare la somministrazione di antibiotici, il concetto di cui parlava prima la collega, è oggi ufficialmente una delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e noi speriamo tutto il nostro lavoro a questo concetto. Allora, edenziamo tutti i vantaggi di questo, perché abbiamo fatto anche dei cartelli che riassumono un po' i vantaggi di questa nuova tecnica. Sicuramente meno dolore, da questo punto di vista. Il dolore praticamente è assente, è assente durante l'intervento perché c'è l'anestesia, ma è assente anche dopo perché il dolore nel post-operatorio viene perché noi stacchiamo il periosteo dall'osso. Quindi facciamo dei lembi di accesso con un taglio abbastanza ampio, di solito. Ma quando questo taglio non viene più fatto, se non nella zona dove poi viene posizionato l'impianto, il dolore praticamente è inesistente anche nel post-operatorio. Infatti stiamo leggendo anche brevi tempi di attesa per il posizionamento delle progetti sugli impianti, poi la ricostruzione dell'osso per sostenere gli impianti in contemporaneo all'estrazione dei denti. Insomma sono tutti questi vantaggi che... Sono vantaggi che hanno cambiato radicalmente l'approccio all'implantologia. Riduzione anche delle necessità di suture. Sì, perché nei momenti in cui noi posizioniamo un impianto di 4 mm di diametro e facciamo un foro d'accesso di 3 mm, capisce che abbiamo un tessuto molle che aderisce in maniera molto stretta alla vite e quindi non abbiamo bisogno di sotturare per farla aderire ai tessuti. Molte persone anziane che ci sono seguenti in questo momento parlano anche di costi. Io ho detto prima, magari i denti tante volte le persone anziane li lasciano un po' stare proprio per i costi troppo elevati e perché il Servizio Sanitario Nazionale non è che ci regala molto. Allora, anche da questo punto di vista è meno costoso rispetto... Insomma, si può fare oppure non si può fare? Sì, anche da questo punto di vista è importante capire che il paziente ha necessità di impiantare i denti quando questi mancano, ma ha l'obbligo di farlo direi quando ci troviamo davanti a un dentulismo quindi a una mandibola o un macellare completamente privo di denti e a una protesi che soprattutto nelle persone anziane spesso, per mancanza di osso, voi non immaginate una mandibola di un anziano in queste condizioni spesso sono piatte e quindi su una mandibola piatta la protesi non aderisce e quindi la mobilità della protesi rende impossibile qualsiasi tipo di attività masticatoria con conseguente eliminazione di alimenti dalla dieta e impoverimento dell'organismo in componenti metaboliche fondamentali Oggi bastano pochi minuti e il posizionamento anche solo di due impianti, come vedete i denti sono fondamentali, non c'è niente da fare per poter collegare addirittura la vecchia protesi nel giro di poche settimane e bloccarla e rimettere in funzione Quanto durano questi impianti, professore? Gli impianti possono durare tutta la vita del paziente se l'intervento è correttamente eseguito si previene la perimplantite e si evita una gestione traumatica dell'impianto Allora, le parole di perimplantite, anche gli impianti possono cadere, possono infettare? Sì, se noi non prendiamo le precauzioni che dicevamo prima dove i batteri che provocano la parodontite sono in grado anche velocemente di farci perdere l'impianto qualora provochino la perimplantite quindi bisogna conoscere molto chiaramente questo problema e capire che non basta eliminare i denti per eliminare il rischio di perimplantite Ecco, e quando un impianto fallisce si deve fare tutto da capo? Eh sì, quando un impianto fallisce fallisce perché ha perso il collegamento, l'integrazione con l'osso quindi di solito manca molto osso molto più di quei 4 mm di diametro dell'impianto quindi va rimosso, va ricostruito l'osso e oggi ci sono tecniche molto semplici di ricostruzione di quest'osso va ricostruita la gengiva, che è un altro aspetto importante dopodiché, a distanza di qualche mese soprattutto se il paziente non soffre di osteoporosi e non ha problemi metabolici a livello osseo si può riposizionare un nuovo impianto prendendo qualche precauzione in più Quali sono le raccomandazioni allora per conservare bene una protesi? Le raccomandazioni sono quelle di effettuare costantemente i controlli dall'odontoiatra di riferimento il che vuol dire non andarci una volta ogni 3 anni ma andarci una volta ogni 3 mesi L'odontoiatra poi è in grado tempestivamente di identificare la presenza di infiammazione è l'infiammazione che è sempre legata a un'infezione in questo caso è il nemico principale quindi l'odontoiatra interverrà immediatamente se il paziente va a fare questa attività di follow up quindi di mantenimento e di prevenzione se noi facciamo questa attività già in tenere età cominciandolo con i bambini i bambini possono arrivare a 100 anni con i loro denti in bocca ma quando abbiamo gli impianti dobbiamo pensare che la stessa attività di prevenzione va fatta per gli impianti grazie davvero a professore Francesco Saverio Martello grazie a tutti